Siamo stati molto bravi perché siamo andati in tante difficoltà in secondo set e siamo stati molto bravi a recuperare quella situazione che si è creata. Poi, bene, abbiamo vinto contro una squadra non indifferente, l'anno scorso ha vinto, mi sembra, lo scudetto, comunque è molto forte, sono i sbagli. Niente, va bene così.